Dopo il maltempo e la proroga del senso unico alternato fino a ieri, sulla statale Regina, tra Argenio e Colonno, dove si era verificato lo smottamento il 25 settembre scorso, le auto hanno ricominciato a transitare regolarmente in entrambi i sensi di marcia. Sono infatti stati rimossi i semafori che garantivano la circolazione a senso unico alternato. In seguito alla frana era subito partito l'intervento di ripristino e di messa in sicurezza della parete. Poi però, viste le previsioni del tempo, era stato chiesto ad Annas di proseguire con la limitazione al transito in via precauzionale fino al termine dell'allerta. Si è dunque tornati a viaggiare regolarmente, tra l'altro, proprio a causa delle piogge abbondanti, la statale Regina aveva subito sabato mattina una nuova interruzione a causa dell'ingrossamento della cascata delle Camoggi a Colonno, che trascinava a valle piccoli sassi che superavano le reti di protezione finendo sulla strada.